Per RMC Marina siamo al nuovo Yacht Club disegnato da Norman Foster alla balaustra della poppa al quinto ponte di questo nuovo edificio che era tanto atteso dal Principato di Monaco, il nuovo Yacht Club Monaco ed è qua che incontriamo Stefano Di Vivo che è il direttore commerciale del gruppo Ferretti diciamolo, aggiungiamolo, è un ritorno il tuo al gruppo Ferretti Sì, io ho fatto In Riva, che fa parte del gruppo Ferretti dal 2002 al 2006 quindi cinque anni in questo splendido gruppo e in questo splendido marchio ho iniziato l'ufficio tecnico e poi ho fatto la carriera fino al commerciale Ti hanno richiamato in occasione del giro di boa, diciamo, del gruppo Ferretti e del lancio del Mitos 122 e quindi cosa vi aspettate da questa barca? Beh, innanzitutto diciamo che è una barca di 37 metri e mezzo, è uno sport coupé quindi linee molto filanti, spazi per godersi l'aperto, il mare, ma anche volumi importanti interni Quante unità ci aspettiamo di vendere? Se devo essere onesto, non lo sappiamo neanche noi perché se prendiamo l'esempio dell'Acqua Riva che è stato lanciato nel 2001 oggi dopo 14 anni ne abbiamo prodotte 250 e quest'anno non siamo riusciti a produrne quante ce ne chiedevano quindi i modelli Riva forse proprio perché con questo marchio abbiamo la possibilità di creare delle barche che non hanno tempo e non hanno restrizione di linee perché i nostri clienti non guardano solo puramente lo spazio ma guardano prima la linea, prima queste forme, se ne innamorano dopodiché guardano anche le cose più funzionali quindi molti dei nostri modelli come l'acquarama, il più storico di tutti, il più famoso di tutti di cui ne hanno prodotte più di 700 unità l'ultima è ancora nel cantiere, l'ha tenuto il cantiere a Sarnico sul lago di Seo è durata, la produzione è durata 30 anni e quindi tocchiamo legno visto che ci siamo anche per il Mythos 122 c'è un mercato in particolare al quale avete pensato producendo questa barca? no, un mercato in particolare no, proprio perché non ci diamo restrizioni abbiamo pensato a un cliente in particolare e sono tutti quei clienti nostri che hanno comprato i loro yacht negli ultimi anni la gamma Riva si fermava come Open o Sport Coupé come lo vogliamo chiamare a 86 piedi e avevamo bisogno di dargli un modo di crescere non tutti cresceranno ma vogliamo dare a quegli armatori che non potevano cambiare la barca perché noi non ce l'avevamo e loro vogliono solo Riva dovevamo dargli la possibilità di crescere e questa è l'idea e penso che nei prossimi anni vedrete non solo sui coupé o sugli open puri ma anche sui flybridge e le navette abbiamo tanta carne al fuoco col nuovo giro di boa come ha detto lei per tornare la Riva grande che è stata negli anni 60-70 ma che lo è stata anche nei primi anni 2000 quando il gruppo Ferretti l'ha acquistata Ok, grazie Stefano Di Vivo, direttore commerciale del gruppo Ferretti e buon vento Grazie mille